Subito emozioni nel venerdì sera della prima di campionato di Lega Pro. Il Pescara di Baldini batte la Ternana al Liberati. Il vantaggio ad opera di Bentivegna al 41esimo e favorito da una papera di Franchi. Il pareggio Umbro di Carbone che gira in rete il suo primo gol tra i professionisti. Dura però davvero poco perché la squadra di Baldini si riporta avanti solo due minuti più tardi. Al 62esimo avvolgente la manovra che porta l'assist di Tuniov per D'Agasso. È il 2-1 per il Pescara a Terni e sarà anche il finale. Pirotecnico pareggio 2-2 allo stadio Mazza di Ferrara tra la Spal e Lascoli. Squadra di Carrera avanti 2-0 prima con un gol di Tirelli su assist di Marsura al 35esimo. Raddoppio Marchigiano con Corazza al 54esimo dopo un doppio tentativo. Nel secondo tempo in 5 minuti via alla risalita Spallina. Prima al 63esimo con l'intervento sotto rete di Rao dopo un liscio difensivo. Poi con uno stacco di testa di Arena su punizione di Dorazio. Pareggio al Mazza e pareggio anche tra Pineto e Lucchese 0-0. Il campo basso ha ingaggiato il difensore Gabriele Morelli. Arriva dal Gubbio e il 24esimo giocatore a disposizione di Braia. Ha iniziato la sua carriera professionistica nel Livorno arrivando a debuttare con la prima squadra in Serie B. Successivamente è passato alla Juventus Under 23. Dopo l'esperienza in bianconero è tornato al Livorno prima di trasferirsi al Sud Tirol, Messina e poi Gubbio. Per il debutto di domani ad Arezzo Braia non dispone di Pellitteri, Baldassini e Bigon sono infortunati. Circostanze che rendono quasi già delineata la formazione titolare. A dire il vero il tecnico precisa di avere già in mente l'11 anti Arezzo. A livello tattico Braia si è presentato come un allenatore non integralista. Nel precampionato, da lui stesso definito pessimo, si è passato in un batter d'occhio dal 3-5-2 al 4-3-1-2 che oggi potrebbe apparire più efficace per questo campo basso. Il tecnico non ha nascosto il malumore per le prime uscite fra amichevoli e Coppa in cui i gol incassati sono stati tanti, dieci e quelli fatti pochi, appena uno. Ad ogni modo le sensazioni dell'allenatore sono incoraggianti alla vigilia del campionato. Anche lui è apparso curioso di vedere all'opera in campionato il suo nuovissimo campo basso alla luce del fatto che l'amichevole ma anche la prima di Coppa sono di tutt'altra pasta rispetto al torneo. Rispetto a Giuliano, Braia avrà un fagioli in più attaccante che ha smaltito il problema alla caviglia e che scalpita per un'immediata maglia dal primo minuto. Ad Arezzo si gioca contro una delle formazioni più temibili del girone, secondo il tecnico e gli addetti ai lavori e che sulla base dello scorso anno ha innestato elementi di valore oltre al cambio di guida tecnica da indiani a troise. Lo stadio di Arezzo rievoca recenti ricordi negativi all'allenatore rosso-blu che non ne fa assolutamente mistero in conferenza. Il riferimento va alla sfida di campionato recente fra Arezzo e Gubbio. Braia dovrebbe confermare un 11 con il cosiddetto minutaggio. La presenza di giocatori in età di Lega per una cifra di minuti complessiva pari a 270. Per tante società che scelgono di battere questa strada sicuramente un'interessante fonte di risorse. Ad Arezzo Campobasso seguito da circa 300 tifosi, come riferisce la società toscana. Vendita che si chiude oggi, domani per gli ospiti. Non sarà possibile acquistare il tagliando allo stadio. Dalle 20.45 a Arezzo Campobasso sarà diretta dal signor Migliorini di Verona.